Ciao ragazzi Benvenuti a una nuova puntata di Professione Chitarrista Oggi vi voglio parlare di uno dei riff più importanti in assoluto Parliamo di Hulotalove dei Led Zeppelin Subito dopo la sigla Sono Alessandro Giordani, chitarrista e producer Vent'anni fa ho deciso di imparare la chitarra E oggi insegno musica a tutti i livelli Impara dalla mia esperienza e dai miei trucchi E iscriviti al mio canale YouTube Questo riff è uno dei più incisivi e semplici della storia del rock E parte subito con uno slide al settimo tasto della sesta corda Nota Si Ci arriviamo con il dito anulare Nota successiva La nota Re al quinto tasto della quinta corda Andiamo a suonare successivamente di nuovo la nota Si E di nuovo la nota Re Finita questa brevissima parte a note singole Ci spostiamo poi sul power chord di Mi al settimo tasto Con nota fondamentale sulla quinta corda E con il dito anulare o il dito mignolo Come preferisci Sul nono tasto della quarta corda Quindi Di nuovo lentamente Andiamo successivamente a suonare una ritmica sui bassi Volendo puoi anche fare un leggero palmuting Suona di nuovo poi il power chord Stoppandolo successivamente Come vedi questo riff è formato da due brevi note iniziali Il si e il re E poi una sequenza di power chord di Mi Intervalato dal Mi basso a vuoto sulla sesta corda Durante la strofa non dura così a lungo Ma viene accorciato Sulla nota Re puoi fare anche un loggero blues band Verso il basso Vedi tiro giù il dito Per ottenere il classico effetto del blues band Infine il ritornello entra sull'accordo di Re Per poi ritornare di nuovo sul Mi Volendo puoi anche stoppare l'accordo di Re Come vedi il riff è molto semplice ma di grande Impatto Tutto il brano praticamente si sviluppa sul riff di Jimmy Page Per variare soltanto sul ritornello con l'accordo power di Re Quindi ti consiglio questo brano anche se hai iniziato da poco a suonare la chitarra Se poi ti piace e vuoi approfondire queste ritmiche Ti consiglio di dare uno sguardo ai miei corsi di chitarra rock ritmica E anche blues ritmica Vedrai che troverai delle lezioni molto interessanti Che ti aiuteranno a sviluppare e a crescere la tua tecnica Musica 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 Bene ragazzi anche questa puntata è finita Spero che il riff di Fulat Love vi sia piaciuto Mi raccomando Cliccate mi piace dopo mi piace E condividete il video con gli amici Ragazzi devo arrivare a 3000 iscritti in brevissimo tempo Entro la fine dell'anno Quindi conto su di voi Cliccate il pulsante qui sotto Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale Ciao e ci vediamo presto con il prossimo video Buona musica 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 Grazie a tutti.